Le dele che è rischiose politicamente parlando? È una contropartita, bisogna capire da quale lato la si vuole guardare. Sono rischiose se si considera che effettivamente hanno un'importanza cruciale all'interno dell'operato di una giunta, però è vero anche che danno la possibilità di poter dimostrare sul campo delle doti politiche, delle capacità anche tecniche, anche se io in questo caso non sono un tecnico, ma comunque ritengo che queste dele che potrebbero sicuramente ci porteranno a dimostrare di aver meritato il posto in giunta dopo nove anni di tanto battagliare. E quali le linee guida? Sicuramente noi miriamo come gruppo e come giunta a fare il salto di qualità, partendo anche dall'esperienza già fatta in termini di funzionamento anche della macchina amministrativa, e di comprensione dei meccanismi della macchina amministrativa. In questo senso mi sento di dovermi affidare anche al sindaco in primis e a chi in qualche modo ha svolto il ruolo di amministratore, di assessore prima di me. È chiaro che il nostro ruolo lì dentro sarà quello di dare probabilmente anche energia nuova, sempre con il supporto del gruppo che io ho dietro, che vanta anche, rimanendo sulla delega più importante che è quella appunto all'urbanistica, tecnici che sicuramente mi supporteranno. Questi cinque anni sono la partita più importante perché anche in termini di pianificazione, anche di rilancio per esempio del centro storico e tutto, si deve fare ancora molto e sono pronta a lavorare per questo. Ogni assessore mette qualcosa di proprio? Cosa caratterizzerà il suo assessorato? L'esperienza politica che ho maturato, seppur diciamo fra virgolette rispetto ad altre breve, però mi ha permesso di affinare questa capacità di confronto politico e di maturare la consapevolezza che dal confronto politico, quando è costruttivo e fatto per il bene della città, può sempre venire qualcosa di positivo e mai di negativo. Il rapporto con la piazza, con i cittadini, cosa metterà in campo? Certamente è uno degli obiettivi anche questi a cui tengo particolarmente e su cui spero di riuscire veramente anche a fare la differenza perché io l'ho sempre sostenuto anche nel ruolo di consigliere comunale, non c'è una buona politica che possa essere isolata all'interno di un palazzo e non avere un costante confronto con la città, con i rappresentanti della città anche in termini di categorie. Siamo rappresentanti dei cittadini, ma per essere dei buoni rappresentanti dobbiamo sempre avere un orecchio verso quelle che sono le esigenze, le richieste, non dei singoli ovviamente, ma della città tutta generalmente intesa.